Dopo un pareggio 1-1 tra Prodronero e Saluzzo è stata una partita equilibrata, anche un po' nervosa nel finale. Come è andata per voi? Comunque tornate a casa con un risultato positivo. Per come sarà messa potevamo sperare qualcosa di più, però muoviamo la classifica a un punto, comunque su questo campo è un buon punto. Potevamo fare meglio, però andiamo avanti così. Siete comunque riusciti ad arginare un attacco come quello della Prodronero che è sempre molto pericoloso? Sì, loro davanti hanno tanta qualità, però noi abbiamo fatto il nostro e siamo soddisfatti. Tornando indietro dove potevate far meglio secondo te? Ma nella gestione nei primi minuti del secondo tempo ci siamo abbassati tanto e abbiamo subito i loro attacchi.